nel gruppo guadagna e viaggia. In questo breve video andremo a vedere insieme il progetto NWR Life. Ti daremo una prima idea proprio in 5 minuti del progetto voluto fortemente da Ioni Ashurov, il fondatore e CEO di NWR Life. Che cos'è l'azienda NWR Life? Semplicemente partiamo dal concetto che tutti amano avere più tempo a disposizione, vorrebbero avere una maggiore liquidità finanziaria e vorrebbero avere l'opportunità di viaggiare ed esplorare il mondo. Di fatto NWR Life è stata creata proprio con l'obiettivo di creare un club esclusivo di viaggiatori e di stile di vita accessibile solo ed unicamente tramite un invito di chi già fa parte della community. L'azienda è stata lanciata nel 2013, ha ormai oltre 7 anni di esperienza, quindi ha una solidità alle spalle importante, un fatturato in crescita costante in maniera veramente molto molto solida, operativa in oltre 120 paesi, ha aperto diverse sedi nel mondo. Per l'Europa la Francia è stato il primo paese nel 2017 e l'Italia si sta cominciando a sviluppare, quindi abbiamo l'opportunità di andare a prendere tutto il mercato che è in pieno sviluppo. La piattaforma e l'azienda sono partner dello European Tour Operator Association, ovvero l'associazione che raccoglie tutti i tour operator e gli operatori del settore turistico. L'obiettivo è quello di rivoluzionare l'industria dei viaggi andando a bypassare quelle che sono le grandi holding del mondo del turismo, quali Expedia o Booking ad esempio, e le stesse agenzie di viaggio che vanno a spendere tantissimi soldi per quella che è la loro promozione commerciale e di conseguenza questo ricarico commerciale va a finire su noi consumatori che andiamo a prenotare le strutture. Il progetto invece NWR Life è quello di creare un club esclusivo di viaggiatori e stile di vita dove i membri di questo club hanno l'opportunità di andare a risparmiare tantissimo andando a prenotare tramite una piattaforma esclusiva con prezzi all'ingrosso. Perché? Perché la piattaforma Travel Advantage va a ricevere le stesse offerte che riceverebbe Booking piuttosto che Expedia, ma le mette direttamente a disposizione dei membri che quindi risparmiano tantissimo e si occupano di promuovere ad altre persone questi risparmi. Questo è quello che potrai trovare all'interno della piattaforma Travel Advantage, come vedi sconti fino all'80% su tutto quello che riguarda le tue esigenze di viaggio. Nello specifico principalmente su hotel, resort, crociere e ville private, tutto ciò che sono strutture abbiamo questo tipo di scontistica. Per quello che riguarda invece gli spostamenti è molto più complicato riuscire a ottenere dei prezzi vantaggiosi, quindi siamo abbastanza in linea con quelli che sono i prezzi commerciali delle piattaforme che si occupano di vendere appunto questo tipo di servizi. Ma di fatto qualsiasi cosa prenoti sulla piattaforma ti darà tantissimi vantaggi. Se sei qua vuol dire che puoi attivarti come membro pro o elite, che sono le due membership destinate al business, ma oltre al business hai anche l'opportunità di risparmiare e ottenere dei vantaggi esclusivi, come i crediti viaggio, dove tu avrai la possibilità su ogni prenotazione di accumulare crediti che potrai riutilizzare per andare a scontare le tue prossime prenotazioni. Oppure condividendo i guest pass avrai la possibilità di andare a ricevere dei soldi. Ogni volta che una persona a cui tu regali un pass, quindi un accesso gratuito alla nostra piattaforma, lui risparmierà dei soldi e tu riceverai il 100% del suo risparmio in soldi. Avrai la garanzia del miglior prezzo sul web, l'azienda ti riconoscerà il 150% della differenza qualora tu dovresti trovare un'offerta migliore su un altro sito. Avrai anche l'opportunità di portare con te dei viaggiatori aggiuntivi fino a 20 adulti e 12 bambini, oltre a quelli che sono i tuoi 5 adulti più 3 bambini a cui hai diritto con la tua membership. Tutte le prenotazioni fatte da queste persone ti permetteranno di andare a ottenere crediti viaggio, quindi ancora di andare a scontare le tue prenotazioni. Avrai anche l'opportunità di avere a disposizione i punti fedeltà. La tua membership, il tuo abbonamento alla piattaforma ti sarà restituito al 100% in punti fedeltà che potrai andare a riutilizzare per delle esclusive vacanze chiamate Life Experience, vacanze speciali organizzate dall'azienda NWR Life o per acquistare all'interno della boutique Lifestyle dove troverai prodotti di assoluta qualità e grandi marche a prezzi all'ingrosso. Ma non è finita perché le membership Travel Advantage si possono trasformare in una grandissima opportunità di business e di fatto ti trovi al posto giusto al momento giusto. L'industria dei viaggi sta crescendo costantemente. Le statistiche parlano che questo enorme mercato che nel 2018 ha prodotto 8,8 trilioni di dollari passerà addirittura a 13 trilioni di dollari nel 2029. Non sono informazioni che ti diamo noi ma la fonte è il World Travel e Tourist Council quindi le puoi trovare su questo tipo di portale dove vedrai questi dati. Sono numeri spaventosi e dove ci sono grandi numeri ci sono grandi opportunità. Di fatto l'azienda ti metterà a disposizione un sito web personalizzato, un back office, applicazione mobile, strumenti di marketing e video, presentazioni in sette lingue differenti e la formazione H24 che troverai sul portale dell'azienda e in più ti metteremo noi a disposizione un gruppo Facebook dedicato dove avrai tutto quello che ti serve per formarti. Quindi di fatto non ti resta che sfruttare il potenziale di questo sistema commerciale. C'è un potenziale di reddito veramente illimitato che tra i benefici da due principi dinamici per la costruzione di una rendita. Il primo è quello dell'effetto leva determinato dal crescere del tuo team. Potrai creare un team di persone che vogliono sviluppare questo progetto, viaggiare, risparmiare e promuovere ad altre persone la stessa opportunità e questo farà sì che il numero di ore di tutto il tuo team sarà tale da far salire in maniera incrementale il livello dei tuoi guadagni. E l'altro aspetto importantissimo è quello dei guadagni residui. Questa azienda ti mette a disposizione un sistema di compensi che ti permetterà di creare un'entrata fissa mensile che ti verrà pagata settimanalmente con una crescita potenzialmente illimitata nel tempo e che può essere paragonata a uno stipendio perché mensilmente otterrai un fisso in funzione del volume d'affari che stai generando. Quindi vatti a vedere subito questo potentissimo piano compensi. Troverai all'interno di questa pagina un altro video che ti andrà a spiegare nel dettaglio tutto il progetto NWR Life. Andrai a conoscere la piattaforma, l'opportunità di risparmio, le nostre membership e soprattutto come sfruttare al 100% questo piano compensi fatto da ben 7 aree di guadagno. Quindi non perdere altro tempo, fiondati nel video e vatti a prendere tutte le informazioni. Siamo qui per aiutarti a raggiungere il tuo successo.